Dopo 77 anni di vita vissuta alla grande da protagonista e altri otto trascorsi in coma vegetativo, del tutto impotente fra le mani di infermiere e medici, l'ex generale premier Ariel Sharon sta per uscire di scena e il decesso viene ritenuto imminente, sebbene l'ex leader stia lottando per resistere. Da diversi giorni si ripete dunque un maestro rituale quotidiano. Alle 11 del mattino il direttore del centro medico, Tela Shomer di Tel Aviv, il professore Zev Rosteyn emerge dai propri uffici per riferire in diretta ai mass media che il processo di deterioramento è ormai irreversibile, che gli organi vitali stanno gradualmente registrando disfunzioni. Ma tutto sommato si chiedono in molti se non sarebbe stato meglio lasciarlo morire nel gennaio 2006 quando fu colpito da un ictus e cadde in un coma irreversibile. Nel frattempo si completano i preparativi dei funerali. A quanto pare ci sarà una prima fase ufficiale a Gerusalemme, ma poi la sepoltura avverrà nel suo rence privato dei Sicomori, nel profondo sud. Ari e Sharon, nelle ultime volontà, ha stabilito che sarà inumato nella collina delle anemoni, accanto alla tomba della moglie Lily, il grande amore della sua vita.